Consiste nel bicepsprint una specialità nuova, come si è detto, ma non poi più tanto nuova perché come specialità olimpica e quindi è cresciuta molto di livello di impegno tecnico da parte di tutti gli atleti e in conseguenza anche un interesse intorno notevole. Da parte nostra è una grande soddisfazione, non è la prima occasione per noi questa e speriamo di essere all'altezza, di dare il meglio e che tutto vada bene. Noi siamo una piccola società, non è che guardiamo molto lontano, cerchiamo di fare del nostro meglio per essere quella parte di mosaico del quadro della nostra regione innanzitutto e più in là di conseguenza sì. Volevo dire un'altra cosa, mi dispiace che diverse persone che dovevano essere presenti oggi per motivi importanti non sono potute essere, vedi il presidente della Bell'Italia Village, il dottor Della Inio, vedi Manuel D'Orodeano, il presidente della LisaGest e qualcun altro ancora che adesso non ricordo, però tutti molto vicini e chiedono, salutano e ringraziano. Come dicevo prima, l'Italia parte da una posizione molto alta in classifica nel ranking mondiale, l'anno scorso nel mondiale di Barletta abbiamo vinto il medagliere, quest'anno speriamo di riproporci anche perché gli avversari saranno sempre più numerosi e più preparati, visto che siamo prossimi a fare la nostra entrata nel panorama olimpico a Los Angeles. L'Italia sicuramente si sta preparando bene, ci sono come detto prima dei club importanti in Sicilia, in Sardegna, nel territorio marchigiano ma anche nel Friuli di Venezia Giulia. Non voglio dimenticare, non voglio peccare di presunzione, ma il Circo del Canale di Saturnia è il primo club in Italia. L'anno scorso abbiamo vinto il campionato del mondo, abbiamo preso tre medaglie al mondiale di beach sprint, dunque vogliamo essere presenti e l'Italia vuole essere presente e ben preparata anche al prossimo fine settimana qui a Lignano dove terremo le nostre prime selezioni per i campionati europei che si svolgeranno in Polonia fra due settimane e da lì a divenire per la stagione entrante agonistica a livello internazionale. Importanza altissima perché Lignano ha una forte vocazione sportiva e crediamo in questo movimento veramente tanto. Tanto è vero che abbiamo già in programma di garantire ulteriori servizi soprattutto per quanto riguarda tutte le associazioni legate al mondo sportivo acqua, quindi mare, laguna. A Lignano si svolgerà questo evento molto importante, parteciperanno campioni di livello internazionale e questo ci onora e ci dà veramente grande soddisfazione. Oltre al fatto che, come diceva anche il presidente Bordini Pocanzi, lo sport trasmette veramente dei valori importanti e valori fondanti per la crescita dei ragazzi e questo per noi, per la nostra società, ha un valore estremo e dobbiamo continuare su questa strada. No, è importante perché si tratta di eventi che hanno a livello agonistico e sportivo un livello significativo ma sono anche eventi che poi promuovono la nostra regione, Lignano-Sabbia d'Oro e dal punto di vista turistico quindi ci danno un ritorno importante, anche economico ovviamente, che non guasta. Per questo dobbiamo ringraziare il Circo Canottieri e la federazione che si impegnano costantemente non solamente per fare crescere atleti di altissimo livello come è accaduto qui in Friolinesia Giulia ma anche per dare l'opportunità a tanti giovani di praticare questo bellissimo sport e poi organizzare anche eventi così affascinanti che portano tanta gente nella nostra regione permettono di far conoscere il Friolinesia Giulia e le sue bellezze e poi naturalmente anche di organizzare delle gare di altissimo livello sportivo.